Allora, sei tornato dalle ferie, si? Si, ieri sono tornato Ma comunque è stato bravo il dottore che ti ha sostituito Bravo, è stato bravo Quello è un zomaro quello E certo un zomaro Cioè tu immagini che in pochi giorni ha guarito quella vecchia ricchissima contessa che io ero in cura da tre anni Mi vieni? Lo curate Tu la sei